Aveva letteralmente terrorizzato alcune delle proprie vittime, un pregiudicato legato ad una conosciuta famiglia rosernese nei confronti dei quali i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Palmi. In campo, un dispositivo di 30 militari della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro, supportato dai cacciatori del gruppo Eliportato di Vibo Valencia, che a seguito di una tenta perquisizione presso l'abitazione del destinatario del provvedimento cautelare, hanno scoperto due bunker, di cui uno ricavato da una intercapedine sottostante la cucina ed un altro solto un capannone di fronte all'abitazione stessa. Numerose le contestazioni nei confronti del rosarnese a partire dall'anno del 2020, in particolare da una ricostruzione dell'escursus criminale dello stesso, per quanto è emerso dall'attività di indagine, l'uomo aveva in incipit costretto il titolare di una ditta di autotrasporti a consegnargli il portafogli dietro gravi minacce. Ad essere preso di mira, invece, era stato un autista della stessa ditta verso il quale il malvivente aveva ugualmente poste in essere minacce e atti persecutori. A seguito di continue minacce subite che avrebbero imposto alla vittima di lasciare anche il posto di lavoro, lo stesso aveva deciso di denunciare il tutto ai carabinieri. Un altro analogo episodio risale a fine anno scorso, quando a Maropati, travisato con in pugno una pistola, l'uomo aveva tentato di porre in essere un'altra rapina a mano armata nei confronti del corriere di una ditta. Non portata però a termine, questa volta grazie alla pronta reazione del corriere stesso, che era corso via a bordo del proprio mezzo.